Controlli serrati contro la cosiddetta condotta killer, causa al 60% degli incidenti mortali. La sezione provinciale della Polstrada, diretta dal vicequestore aggiunto Gaetano Di Mauro, continua i controlli per contrastare l'eccesso di velocità lungo le strade della provincia eblea. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi sulla statale 194 Modica Pozzallo, segnalata come pericolose se dei cittadini e che anche di associazioni di imprenditori sulla strada provinciale 25 Ragusa Mare e sulla Ragusa Catania, strade nella quale si sono verificati l'anno scorso incidenti mortali. Da una settimana sono state approntate i controlli massicci con il telelaser. Negli ultimi due giorni sulla strada per Marina di Ragusa e sulla strada per Pozzallo sono state contestate 20 infrazioni con il ritiro di 9 patenti di guida nei confronti di utenti che hanno oltrepassato di oltre 40 km orari il limite previsto. Inoltre la polstrada su tre persone della provincia sta svolgendo indagini su attività delegate dalla procura di Ragusa, alla quale è stata inoltrata una richiesta di rogatori internazionale da due cantoni della Svizzera presso i quali è stato commesso il reato di eccesso di velocità. Si tratta di un ragusano di 36 anni che ha ecceduto il limite di 35 km orari, un comisano di 60 anni che ha superato il limite di 27 km orari ed uno ciclitano di 38 anni che ha superato il limite di 19 km orari. I servizi di controlli continueranno anche durante le festività pasquale nel corso delle quali verranno intensificate le pattuglie sul territorio con l'ausilio di personale molto montato e in borghese al fine di contrastare le condotti più a rischio, vale a dire eccesso di velocità, guido in stato di ebrezza, mancato uso delle cinture ed uso del cellulare alla guida.